Salve, benvenuti in Dr. Spy. Oggi vi presentiamo una microcamera audio e video occultata in una chiavetta USB. Questo dispositivo ha una telecamera da 95 gradi, 640x480, ha una registrazione che può essere applicata sia in continuato che in movimento, quindi questo significa che quando ci sarà un movimento lui registrerà per tre minuti, poi si ferma, nel caso in cui c'è una nuova registrazione e lui continuerà la registrazione. Il microfono arriva alla distanza di 5 metri omidirezionale, ha un ingresso per SD card espandibile fino a 32 giga e il dispositivo può funzionare anche da classico USB oppure semplicemente da registratore audio e video. Il dispositivo, come abbiamo già detto, ha più funzioni, può registrare in continuato, può registrare solo col movimento oppure può scattare solo foto. Il dispositivo è in vendita presso il nostro negozio, o direttamente sul nostro sito. Vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.